arriva per taluni un giorno un'ora in cui devono dire il grande sì o il grande no subito appare chi ha pronto il sì lo dice e sale ancora nella propria certezza e nella stima chi negò non si pente ancora no se richiesto direbbe eppure il no il giusto no per sempre lo rovina grazie